La pandemia, soprattutto nella prima ondata, ci ha portati chiaramente a modificare anche, a riorientare la nostra attività investigativa. Quindi nel mese di marzo e nel mese di aprile abbiamo fatto diversi sequestri di mascherine, proprio in quella fase in cui c'era carenza di questi dispositivi di protezione individuali. Ed è stata, diciamo, un'attività, devo dire, meritoria anche alla Regione del Prefetto, perché ci ha permesso, in quella fase così critica, anche dopo il sequestro, di requisire alcune mascherine e di darle alle ASL e tutto l'apparato sanitario tarantino. Chiaramente la Guardia di Finanza si è adeguata a questo nuovo scenario, riducendo l'attività ispettiva classica, quella tributaria, però non, come dire, ricalibrando la sua attività. Non di meno, diciamo, è continuata con l'attività anche di aggressione patrimoniale, anche con l'egida della Procura della Repubblica, quindi sono stati fatti dei sequestri molto importanti, sia ai fini tributari, in base a indagini già avviate, che anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, quindi come nel caso dell'indagine T-Rex sulla provincia risalente da qualche anno fa, quindi con dei sequestri milionari molto importanti. Sono state fatte anche operazioni di contrasto di attività, scusate, della criminalità organizzata, con diversi arresti, e quindi diciamo l'attività è comunque proseguita, rimodulata, e chiaramente sono state diverse le risorse che sono state poi destinate all'attuazione delle restrizioni varate di volta in volta dal governo. Quindi c'è stata una cabina di regia e c'è tuttora costante con la Prefettura di Taranto, con le altre forze di polizia, per far sì che, diciamo, l'emergenza primaria e quella pandemica venga tenuta sempre sotto controllo. Ha modificato il nostro approccio, cioè ha reindirizzato la nostra attività, quindi c'è stato, come dire, un rallentamento dell'attività di polizia tributaria in senso stretto, ci siamo dedicati solo alle frodi fiscali, quelle più importanti, e gli operatori economici, diciamo, normali, che avevano un'attività di verifica in corso hanno potuto beneficiare di una sospensione dell'attività, perché chiaramente è stata la precedenza a questa emergenza. Sicuramente alzeremo il livello di attenzione anche durante le feste, per evitare anche che uso sconsiderato di fuochi di artificio e quant'altro possa portare chiaramente a fenomeni di assembramento molto pericolosi. Ma noi confidiamo nel senso di responsabilità, che devo sottolineare, i cittadini tarantini hanno sempre avuto, perché già dal mese di marzo, quando c'è stata la prima ondata, nel momento in cui sono state rese le contromisure e le restrizioni, la cittadinanza ha risposto in maniera veramente civile e attenta. Quindi io sono fiducioso di avere risposte analoghe anche nei prossimi giorni.